Si dice che puoi allontanare un siciliano dalla Sicilia, ma non puoi togliere la Sicilia dal cuore di un siciliano. Se ieri sera avete visto o rivisto in televisione la terza parte del padrino, sicuramente capirete che cosa voglio dire. Io sono convinto che il terzo capitolo sia il migliore, perché Menta del primo era completamente dominato da Marlon Brando, che alla fine si è mangiato il film, e mentre il secondo era un duello a distanza tra De Niro e Alpasino. Il terzo è il più italiano, per la presenza della musica, la cavalleria rusticana di Mascagni, per i riferimenti alla cronaca, Calvi, il Banco Ambrosiano, la morte di Giovanni Paolo I, ma soprattutto per il modo in in cui il cerchio si chiude. È un tornare dove tutto era cominciato. È un tornare alla terra.